ragazzi godetevi la visione di questo video abbiamo fatto un ribai di rubia gallega la bionda di galizia vacca vecchia al burro chiarificato di bufala rosmarino e sabbia e abbiamo fatto con gli stessi ritagli delle costate da cui abbiamo ricavato il ribai dei cubetti saltati nello stesso burro con una maionese al peperoncino basilico e lime nelle pannocchie ce l'ho messe di contorno da vicino perché me l'aveva regalato il mio carissimo amico di battipaglia a proposito un saluto ringraziamento altro che mi ha fatto passare due giorni bellissimi godetevi la visione eccoci qua allora innanzitutto andiamo a chiarificare il nostro burro ho scelto un burro di bufala ok parlotti un bellissimo prodotto ok quindi lo vado ad aprire e lo vado a mettere in una ciotola abbiamo fatto il abbiamo sciolto il burro a bagnomaria e adesso lo mettiamo in abbattitore o in freezer se non lo abbiamo così che le proteine del latte scendono sul fondo e sulla resta il burro chiarificato quando ho un dubbio io domando a chef simone profeta che è un mio carissimo amico e ogni volta che gli mando whatsapp risponde sempre con piacere alle mie perplessità culinarie posso dire di questa persona che un lavoratore eccezionale un grande professionista a taverna del profeta è un suo piccolo ristorante che si trova alla riviera di chiaia andatelo a trovare si mangia veramente bene ok allora se le beccate al momento giusto avrete in quella ciotola che abbiamo visto prima di acciaio una parte sottostante di questa proteina del latte ok che è liquida e la parte sovrastante che il nostro burro chiarificato nel frattempo vado a pulire la mia spicca del grano l'abbiamo messo nella stessa acqua di cottura le nostre spighe di grano vedete sul fondo c'è questa cosa marrone la faccio vedere questa è una riduzione di carne poi vi insegnerò come si fa molto molto buona ok io la metto praticamente ovunque nelle ricette a base di a base di carne in questo caso lo metto anche dell'acqua di cottura delle spighe di grano perché mi piace il sapore l'aroma che la nostra bella costata di rubia gallega e oggi voglio fare una cosa un po particolare coltelli grazie non sono dei migliori e sono coltelli da cucina comprate dei coltelli professionali ok e quindi come detto siamo andati lungo l'osso e alla base della costata a rimuovere tutto ok poi siamo andati nella coda a rimuovere la coda della costata e la coperta e qui ora abbiamo il nostro bel ribai ma del resto cosa ce ne facciamo lo vedremo fra poco andiamo a fare il dry bringing sembra salatura della carne su entrambi hanno ricavato questa carne ok dalla coperta e dalla base dell'osso e con questa carne cosa ci faremo non ci facciamo una tartare come state pensando perché la rubia gallega ha una lunga frollatura e quindi presa a tartare potrebbe dare un pochino fastidio io ci faccio una cosa tutta mia che può piacere o no lo vedrete subito ok abbiamo preparato i nostri cubetti come vedete sono grossolani ci andiamo a mettere un po di sale un pochino di pepe macinato fresco una goccia di olio extravergine e lasciamo riposare un pochino così andiamo a mischiare un pochino cosa ci voglio fare in questi tre elementi lime peperoncino e basilico ci voglio fare un trito ok una maionese che possiamo fare noi in casa o comprare anche di una buona marca per non rendere le cose magari troppo complicate e ce ne ha mette il nostro trito di basilico e peperoncino e ci andiamo a fare una grattatina di lime vedete come scende come stavo dicendo una grattatina di lime ma ci andiamo ad aggiungere anche il succo ok andiamo a miscelare intanto il nostro ribaio è pronto vi faccio vedere da vicino vedete come si è come si è cicatrizzata la superficie vedete questa reazione questa aiuta molto in cottura e andiamo a tamponare ben bene con carta asciugatutto entrambi i dati la tamponiamo bene di perdere tutti i liquidi perché dobbiamo prepararla per il reverse ecco qua con la tecnica come dicevo del revit la temperatura anziché portarla a 50 gradi fino al raggiungimento dei 45 52 gradi al cuore il forno viene portato a 100 gradi e la temperatura al cuore deve raggiungere sempre quell'indice dei 45 50 con la differenza però con la differenza però che mentre quando il forno è a 50 gradi dovete togliere la carne praticamente sul punto in cui ha raggiunto la temperatura desiderata quando il forno è a 100 gradi dovete toglierla sempre qualche grado prima perché continuerà a salire di temperatura durante la fase di rest ok un po meno la fiamma mettiamo qualche fogliolina salvia qualche rametto di rosmarino andiamo ad inserire i nostri taglietti di carne ragazzi giusto una girata veramente giusto una girata la nostra bistecca a reverse che è esattamente asciutta andiamo già a fare inserire abbiamo i nostri pezzettini croccanti di rubia gallega maionese basilico lime e peperoncino pannocchie raccolte a battivaglia da me abusivamente non sto scherzando per il permesso e un'altra panoramica su questa ben ribai di rubia gallega jujitsu ok la marca un semplicissimo montepulciano d'abruzzo di ocg ragazzi se vi è piaciuto il video condividete 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 e soprattutto invitate a mettere mi piace alla pagina e al post stesso più condivisione abbiamo più like abbiamo più vi stimolate a creare nuovi contenuti sul mondo della carne per voi ok mi ricordo che il servizio di consulenza aziendale è sempre attivo potete contattarmi in privato per qualsiasi domanda su questo nuovo servizio che offre ok un abbraccio